Weylach a tutti ragazzi, ben ritornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio 0, con Pantiment, titolo, targato, Obsidian, i creatori quindi di Fallout New Vegas, di Grounded, di Pillars of Eternity, di Outer Worlds, insomma di tanti titoli interessanti, forse nessuno proprio un capolavoro, ma di tantissimi ottimi titoli. Quindi questo arriva su Game Pass a lancio, è un'avventura particolare, come un'avventura grafica, un thriller medievale è stato definito da molti, lo andiamo a provare per capire un po' di cosa si tratta, anche se credo sarà un titolo molto particolare e che non soddisferà proprio tutti. Fonte ad alta leggibilità, possiamo mettere la scrittura stilizzata o quella ad alta leggibilità, siccome penso che si dovrà leggere veramente tanto, mettiamo quella ad alta leggibilità, anche se è un po' meno carina da vedere, ecco, un po' meno caratteristica. Stiamo cancellando tutto ciò che c'è scritto, non chiedetemi perché, forse perché bisogna riscrivere la storia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho bisogno che tu finisca questo lavoro entro la fine di aprile e limita il più possibile le tue conversazioni con fratello Piero. E che ne so, io non so manco chi so questi. Non voglio che tu distragga le sorelle in biblioteca. Stai di nuovo facendo il lavoro del diavolo, vero? Non incoraggiarlo. La dedizione al proprio lavoro conduce ai piaceri della mente, ben superiori rispetto a quelli del corpo. Questa è Socrate che parla. O sei tu a doverti trovare delle manti più fuocoso, sono io a dover imparare a lavorare nello stile di Socrate. Come hai risposto all'abbate, Andreas? Allora, come abbiamo risposto? Chiesto scuse e ho detto che sarei stato più attento. Ho detto, non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. L'ho ignorato, che è esattamente ciò che meritava il suo commento. Facciamo il piacione? Non è colpa mia se Dio mi ha fatto così bello. Sei insopportabile. Ahimè, a differenza di quanto avveniva ai miei tempi, questa fede cristiana non vede di buon occhio il desiderio. Forse questo desiderio per te insegnerà loro ad apprezzare di più la bellezza. Giusto, la prossima volta prova a dirlo all'abbate, Andreas. Sì, paziente, sopporta le ire dell'abbate. Presto avrai finito l'opera che ti ha commissionato e con essa il tuo capolavoro. Quindi tornerai in Nuremberg, dove ti aspettano il matrimonio e la tua nuova vita da maestro. Sono queste frasi sottolineate, queste parole sottolineate, come prima la parola Pietro, che non sappiamo perché però sono sottolineate. Un matrimonio con una donna che non ha mai incontrato, non è certo l'ideale. L'alternativa è diventare filosofo. Gesù, allora devi assolutamente sposarti. È carina almeno? È ciò che ha scritto mio fratello nella sua lettera, ma forse stava solo cercando di risollevarmi il morale. Adorabile a giudicare dal piccolo ritratto che ho ricevuto, ma noi artisti sappiamo essere degli ottimi adulatori nelle nostre opere. Chi lo sa, in ogni caso non è per questo che lo faccio. Possiamo mettere questo? Mio fratello mi ha detto che è carina, ma forse stava solo cercando di risollevarmi il morale. Si sta facendo tardi, la ruota del tempo non si ferma per nessuno, Andreas. Temo che tu debba lasciarci. È vero, maestà. Tornerai presto a farci visita? Spero di sì, ma è una cosa che esula dal mio controllo. Non lo so, immagino che non sempre sognarò di visitare questo luogo. Spero di sì, ma non dipende dal mio controllo. Così come molte altre cose. Confida nella provvidenza. Grobbiano, per favore, assicurati che Andreas giunga a casa sano e salvo. Certo, maestà. A presto, Andreas. A presto, maestà. Ignora gli altri folli, Andreas. Lo faccio sempre. Beh, o almeno potrei provarci se la smettessero di darmi dei pestoni. Guardate dove mettete i piedi. Sono dei poveri folli, Andreas. Non ha senso cercare di insegnar loro qualcosa. So che il vecchio prete Gianni vorrebbe che tu tollerassi tutte le stronzate dell'abbate. Ma poiché sono io ad accompagnarti a casa, l'ultima parola aspetta a me. Non farti mettere i piedi in testa da lui, ragazzo. No, l'abbate non può comandarmi a bacchetta. Sta solo cercando di mantenere l'ordine dell'abbazia. Io sono un estraneo. È tutto a posto, non voglio causare problemi. Facciamo questa. Non è questo l'atteggiamento giusto. Devi farti rispettare. Ma questo chi è? Un giullare? Questo che ci parla, sto grubiano. Per favore, potreste smetterla? Mi sa di no. Mi arrendo. Portami a casa, grubiano. Come desideri, Andreas. Buongiorno, Ursula. Buongiorno, Andessa. È ora di alzarsi. Il Barone, aprile 1518. Missioni. Vediamo quali sono le nostre missioni. Finalmente abbiamo il controllo del nostro personaggio. Devo attraversare la città e dirigermi all'abbazia per iniziare a lavorare nello scriptorium. Ok, qua abbiamo la mappa, quindi così possiamo cercare di capire dov'è che dobbiamo andare. Qua c'è la gente che incontriamo. Questo è Piero da Verona. È il Piero al quale ci riferivamo prima. Va bene, cerchiamo di vedere un po' con cosa possiamo interagire. Dovrei davvero dare una bella pulita. Il Picatrix, la chiave di Salomone, Leptameron e il Priore Ferenc continuano a darmi tutti questi libri da leggere. No, andiamo a letto, no? Scendiamo. Qua c'è Ursula che ci ha chiamato con un nome sbagliato. Comunque lo stile artistico è stupendo, ragazzi. Veramente stupendo. Questa è Clara. Facciamo la conoscenza di Clara. Buongiorno, Andrea. Sei dormito bene? Benissimo, grazie. Sono così felice di sentirtelo dire. Ad ogni modo so che andrei all'abbazia, quindi ti ho preparato del cibo. Mandorle, formaggio e un po' del pane di segale che ti piace tanto, quello degli alban. Otto mi ha detto di riferirti che ti invita a cena con lui all'abbazia. Otto è passato di qui? Sì, verso l'alba. Ecco qua, Andreas. È molto gentile da parte tua, Clara. Grazie mille. Maestro Andreas, se non ti ha di troppo disturbo, potrei... Sarebbe un problema per te pagare l'affitto del mese prossimo oggi? E se lo aumentassimo di due grossi? Detesto dovertelo dire, ma siamo in ritardo di due mesi con il pagamento delle tasse per l'abbazia. Peter sta perdendo i capelli per questo, più del solito intendo. Ma certo, non è affatto un problema e poi non vogliamo certo che Peter perda tutti i suoi preziosi capelli. Suppongo che non sia impossibile, penso di potercela fare. Non posso promettere nulla, vedrò cosa posso fare. Aspetta, queste tasse non erano previste? Non so bene come e che. Allora, io direi... Suppongo che non sia impossibile, penso di potercela fare. Te ne siamo molto grati, davvero, Andreas. Scusami ancora per avertelo chiesto. È orribile ritrovarsi in una posizione del genere. Anno dopo anno diventa sempre più difficile pagare le tasse. Peter lavora sodo, ma sembra che non basti mai. San Luca ti benedica per averci aiutato. A proposito di San Luca, come sta avvenendo il tuo capolavoro? Sono passati due mesi, non è vero? Procedo a rilento, temo. Trascorro gran parte delle mie giornate a sbrigare lavori per l'abbazia. Il priori Ferenc mi permette di dedicarmi al mio capolavoro solo durante la liturgia delle ore. Una restrizione ragionevole, ma che ralenta il mio lavoro. Il Consiglio Comunale non ha richiesto un capolavoro. Lo sto facendo principalmente per mostrarlo ai clienti e per me stesso. E sì, quando finirò tornerò a Norimberga, dove mi sposerò e aprirò una mia bottega. Da Norimberga all'università è ora in giro per il mondo come miniatore. Chissà cos'altro ti riserverà il futuro, Maestro Andreas. Già, ho proprio la sensazione di stare iniziando un nuovo capolavoro, un nuovo capitolo della mia vita. Dopo. Qualche passo falso, molto girovagare, un po' troppo divertimento. Qualche passo falso. Deve essere angosciante di cominciare tutto da capo. Se ho ancora la possibilità di fare qualcosa della mia vita, lo devo alla mia famiglia. Questo verrà ricordato. Ok, quindi questa cosa che abbiamo detto verrà ricordata. Mi hanno aiutato anche dopo che ho abbandonato l'università. Non posso deluderli. Sono certa che stai rendendo fiera la tua famiglia, Andreas. A proposito, non me ne intendo di arte, ma ti ho visto fare dei disegni stupendi sul tuo tattuino. Il tuo capolavoro sarà magnifico. È sulla buona strada. Il duro lavoro ti porterà lontano, così diceva mio padre, che Dio lo abbia in gloria. Ora devo tornare al mio lavoro. Buona giornata all'ambazia, Andreas. Ci vediamo per cena, dopo i vespri. Ti ringrazio, ma stasera non posso. Sono stato invitato a cena da Klaus Drucker. Nessun problema. Salute i Drucker da parte nostra. Naturalmente. A presto, Clara. Mamma mia, ragazzi. Sono lunghi, eh, i dialoghi. Cioè, se uno si ferma a parlare con tutti, si fa notte. Però il gioco è questo che dobbiamo fare. Salve, Andreas. Ah, non ci dice niente Eva? No. E la possiamo uscire. Qua c'è un contadino che è Peter. Questo, con questo non possiamo parlare, con questo fermo a terra. Vediamo che ci dice Peter, che è quello che sta perdendo tutti i capelli per pagare ste tasse. Niente, non ci dice niente. Questo è il vecchio Peter, invece. Dio vi benedica. Andreas. Sì, Andreas. Ultimamente c'è un tempo terribile. Questa città è andata puttane rispetto ai miei tempi. Non credo che gli abitanti della città possano fare molto riguardo al tempo. Beh, ovviamente al giorno d'oggi non saprebbero cosa fare. Nessuno segue più le antiche usanze. Il vecchio Abate non si preoccupava molto delle nostre usanze. Non gli importava se lasciavamo una piccola offerta per città per mantenere il cielo sereno e il clima mite. Matthias sapeva che Cristo era nei nostri cuori, anche se il nome della Dama Bianca era sulle nostre labbra. La chiesa ha bandito tutti i riti legati agli dei pagani, vecchio Peter. Che tipo di antiche usanze? Pensavo fosse San Maurizio a proteggere Tassing. Pensi che gli spiriti stiano guastando il tempo da quando nessuno segue più le tradizioni? Siete più sveglio di quanto sembrate, eh? I santi non sono stati i primi a vegliare su Tassing. Mio padre lo sapeva. Anche il vecchio Running Camper lo sapeva. Quel bastardo di un Abate potrà non essere d'accordo, ma alcuni di noi mantengono vive le tradizioni. Non ne parlerò all'abbazia. L'abbazia. Che i segugi di Perchta si portino via l'abbate. Meglio che vada. Va bene. Dio vi benedica. Quindi questo tipo e anche altre persone credono un po' a qualche divinità antica, a quanto pare. Allora, noi siamo qua sotto e dobbiamo andare all'abbazia. L'abbazia si trova qua sopra. Cioè, è un viaggio infinito, in pratica, per arrivarci. Questa è tutta l'abbazia che è enorme. Questa è Tassing. E noi siamo qua sotto nei dintorni di Tassing, quindi dovremmo andare a destra o a sinistra. Poco cambia, perché comunque dobbiamo salire verso l'abbazia. Ah, di qua non si può passare perché ci stanno le pecore. Almeno si può correre per attivare... Cioè, per velocizzare un po' le cose. Buongiorno, Andreas. Buongiorno, Jorg. Come va? Lavori oggi? Mi sta riposando un po'. Papà è ancora nei campi. Ha preso una pietra con l'aratro e solo il signore sa quanto tempo mi ci è voluto per tirarla fuori dal terreno. Stai andando all'abbazia? Tutti i giorni, tranne la domenica. Capisco. Ringrazio Dio per le domeniche. C'è odore di tempesta, no? Io sento solo l'aria fresca di montagna. Hai viaggiato troppo. Dove è trascorso il tuo apprendistato prima di arrivare a Tassing? Ah, questa è la parte in cui scegliamo le origini. Allora, Basilea, quindi Svizzera. Andreas parla un po' di italiano e di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Basilea. E delle vicine Berna, Zurigo e Friburgo. Fiandre. Andreas parla un po' di olandese e di francese e conosce i punti di riferimento culturali di Basilea. Conosce i punti di riferimento culturali di Anversa, Bruges e Gand. Italia. Andreas parla l'italiano, un po' di greco e conosce i punti di riferimento culturali di Firenze, Venezia e Milano. Essendo italiani, io direi che non possiamo che fare Italia. Anche se è interessante vedere come c'è questa componente ruolistica anche in un titolo del genere. Che, tra l'altro, dovrebbe essere abbastanza marcata. Facciamo Italia. In Italia, principalmente a Firenze, ma anche a Venezia e Milano. Italia? Non c'è da stupirsi che i tuoi sensi siano annebbiati, sei stato laggiù troppo a lungo. Resta su queste montagne per un po' e anche tu sentirai l'odore delle tempesti in arrivo. Quanto tempo ci vorrà? 10? 15 anni? Non credo di avere così tanto tempo, Yorg. E comunque, che cosa hai fatto per tutto quel tempo in Italia? Oltre all'arte, intendo. Scegli le origini che influenzeranno le decisioni del tuo personaggio nel corso delle vicende narrate. Quindi qua scegliamo un'altra caratteristica delle origini. Allora, noi siamo un'edonista, quindi Andreas cerca il piacere ovunque vada, è estremamente socievole e vanta una certa esperienza di tutti i vizi del mondo. No, questo non mi rappresenta. Artigiano, Andreas vive per lavorare e dedica tutto il suo tempo alla sua arte. È interessante. Topo di biblioteca, Andreas trascorre tutto il suo tempo libero reperendo e leggendo quanti più libri possibile. Anche questo è interessante. Furfante, tende a farsi coinvolgere in complotti, scherzi, zuffe e piccoli crimini. Direi di no. Imprenditore, Andreas dedica la gran parte del suo tempo a farsi pubblicità, ottimizzare le spese, realizzare investimenti e far quadrati. Allora, io sono molto indeciso tra la biblioteca, perché comunque potrebbe darci un boost in termini di intelligenza del personaggio, oppure imprenditore, perché anche qui forse avere delle alte finanze potrebbe aiutarci. Però siccome un po' conosco quelli che sono i giochi di ruolo, e anche i giochi di ruolo targati Obsidian, io direi di fare topo di biblioteca. Ok, credo di aver capito quindi che il vecchio Peter sia il nonno, poi c'è Peter che è il figlio, e Jorg il grosso è il figlio di Peter. E' il nipote del vecchio Peter. Allora, di qua non si può andare. Qua che c'è? La fucina di Andris Schmidt. E' molto più piccola di quella che usa l'abbazia. Andris, salve Andreas. Ok, lui non ci vuole dire niente. Lassopra sta succedendo qualcosa di interessante. Martin, per favore, puoi aiutarmi? Cosa vuoi? Li sto tenendo d'occhio. A me sembra proprio che tu stai semplicemente lì ad oziare. Martin, per l'avor di Dio, aiuta tua cugina. Buongiorno Andreas, perdonaci, una parte della staccionata è caduta e le pecore sono uscite dal recinto. Posso fare qualcosa per aiutare? Dovrei offrirmi di fare qualcosa. Eh, lo sto facendo, direi. Hai esperienza con le pecore? No. Allora no, ma grazie dell'offerta. Guardate, sta succedendo qualcosa a casa dei Steinhauer. Ci hanno mandato via perché non siamo capaci con le pecore. Chi è quello sul cavallo? Sembra ricco. Non lo so, Martin, ma Fortunato gliene sta dicendo quattro. Cristo, l'ultima volta che ho visto Fortunato così furioso è stata al matrimonio di Peter e Clara quando Johan gli ha calato le braghe per scherzo. Ha fatto sputare due denti al mio povero marito. Far arrabbiare un tagliapietre non è mai una buona idea. Potrebbe essere un nobile? Sembra proprio ricco. Per Dio, Martin, non metterti strane idee in testa per una volta. Di che parli, zia Eddie? Non fare sciocchezze. Non pensi che abbiamo già abbastanza problemi? Andreas, se puoi portare le tue ossute gambette di città più là lungo la strada noi abbiamo delle pecore da radunare. Vabbè, ci hanno mandato via malamente. A più tardi. Buona fortuna. Anzi, vabbè sì, dai, facciamoci cavoli nostri che già abbiamo detto che li avremmo aiutati e ci hanno mandato via. Vabbè, quindi è inutile parlarci con loro. Vabbè, niente, non ci vogliono, non vogliono il nostro aiuto. Allora noi ce ne andiamo. Verso la chiesa. E questo come scrive? Buongiorno, Andreas, come va? Buongiorno, Klaus. Un altro giorno all'abbazia. Ancora qualche ora potrò tornare a lavorare al mio capolavoro. Buono a sapersi. Allora vieni a cena da noi stasera. Mary e Bert vorrebbero vederti. Devi assolutamente vedere queste nuove xilografie realizzate per un'edizione italiana di Till Eul Spiegel. Non sapevo che padre Thomas ti permettesse di stampare libri in italiano. Su via, Andreas. Non è così severo. So che sta solo cercando di proteggere le persone da... Dall'eresia? Dalla mania delle streghe? Da storie d'avventura di dubbia moralità? Dalla sciatta composizione dei tuoi libri? Ma io direi... Da storie d'avventura di dubbia moralità... Ah, cioè sarebbero i libri che scrive lui. Io direi dall'eresia. Naturalmente, di questi tempi certa gente pubblica cose da far rizzare i capelli a un vescovo. O a un abate. Per quello basta poco. Lo so, ma almeno non ho molto a che fare con lui. Allora ti aspettiamo per cena stasera dopo i vespri? Certo, grazie. Benissimo, dirò a Mary e Bert che verrai. Ci vediamo allora. A dopo. Ok, a che punto siamo noi in questo momento? Siamo arrivati? Dio ti benedica, maestro Mahler. Spero che tu stia trascorrendo una buona settimana. Grazie, padre. Va abbastanza bene. Stavo salendo su per la collina per andare a lavorare. Bene, bene. Andreas, non ricordo di averti visto a me sta domenica mattina. Sai quanto sia importante per la tua salvezza ricevere la Santa Comunione, vero? Sì, vi chiedo scusa, padre Thomas. Vi prometto che questa domenica ci sarò. Ho lavorato a dei bozzetti fino a notte fonda. No, non gli diciamo niente. Gli chiediamo scusa e gli diciamo che ci andremo. Non serve che tu mi faccia una promessa, ma la nostra salvezza dipende da... Oh signore, quale benedizione ricevere un visitatore così illustre. Maestro Mahler, vi presento Lorenz, barone di Rothvogel, un grande signore di Worms. È bello vedervi padre Thomas, mi rallegra che abbiate serbato un buon ricordo di me, se solo potessi dire lo stesso di tutto il vicinato. Beh, sì. Cosa vi ha condotto di nuovo alla nostra cittadina? Io e mia moglie stiamo tornando da un viaggio a Venezia, abbiamo trascorso alcuni giorni a Eastbrook, ed è stato terribilmente noioso. Voglio dire, ha un certo fascino comune a queste città alpine, ma era piena di nobili per la dieta dell'imperatore. L'imperatore, era lì, l'avete visto? Disfuggita, ma era in posa per un ritratto, piuttosto affascinante, non ho voluto disturbare né lui né il pittore. Chi era l'artista, mio signore, perché è stata convocata la dieta, mio signore? O la dieta? È la dieta. Qua possiamo sfruttare il fatto che noi veniamo dall'Italia, quindi com'era Venezia, mio signore? Vivevo lì fino a qualche anno fa. Affascinante, gli ebrei della città ora vivono in un loro quartiere, a nord, e gli artisti continuano a dar vita a opere meravigliose, Tiziano in particolare è un dio. Senza offesa, padre. Ma certo. Ad ogni modo, mia moglie voleva rimanere ancora un po' a Eastbrook, così ho deciso di partire in anticipo e visitare Kiersau. Ho sentito che padre Mattias ci ha lasciati poco dopo la mia ultima visita. Una grande perdita per l'abbazia e per tutti noi. Senza dubbio, per fortuna di recente mi sono imbattuto in una copia della istoria Tassie, che stava leggendo durante la mia ultima visita. Padre Mattias sperava di trovare una seconda copia per corroborare i contenuti della prima. Contiene alcuni dettagli affascinanti sulla storia locale. Temo che potrebbero persino causare qualche scandalo. Certo. Ma ora devo andare. Avremo tutto il tempo per discutere del passato di Tassing più avanti. Ho commissionato un manoscritto all'abbazia tramite padre Gernot, o Gernot, e desidero controllare come procede il lavoro. Oh, mio signore, se siete qui per vedere il vostro manoscritto dovreste parlare con il giovane maestro Mahler qui presente. Non posso freggiarmi del titolo di maestro. Devo ancora sposarmi e ricevere l'approvazione del consiglio cittadino. Andreas è un miniatore di Nuremberg. Lavorerà nello scriptorium dell'abbazia per qualche mese. Un miniatore di Nuremberg che lavora in un'abbazia nel 1518. Io e te dovremmo scambiare due chiacchiere, Andreas. Voglio conoscere tutta la storia. Certamente, mio signore, sarebbe un onore. Avrei già dovuto essere all'abbazia. Non credo che il mio signore troverbi interessante la mia compagnia. Noi diciamo che dovremmo già essere all'abbazia. E questo verrà ricordato, Aya. Certo che non lo è. Se l'abbate dovesse fare storie, ci parlerò io. E se non dovesse bastare, parlerò con il principe vescovo di Frisinga, che è un mio buon amico. Grazie per avermelo presentato, padre Thomas. Stasera venite a cena all'abbazia. Siete invitati alla tavola dell'abbate. Io? L'abbate mi ha invitato? Non preoccupatevi, padre. Voi venite dopo i vespri. Non potrà mica cacciarci. Io... Eccellente. Ci vediamo più tardi. Miklaus, io smonto. Tu inizi a portare i cavalli alla foresteria dell'abbazia. Io mi concederò del tempo per parlare con il maestro Mahler. Ti raggiungerò dopo. Subito, mio signore. Ragazzi, metto in pausa perché il video verrebbe troppo lungo, i dialoghi sono infiniti, il gioco è tutto così. Quindi questo deve essere chiaro se qualcuno decide di approcciarsi a questo pentiment che mi sembra molto interessante, è molto lento e quindi bisogna avere tanto tempo a disposizione per fare delle sessioni abbastanza lunghe, appunto perché i dialoghi sono una componente fondamentale e anche abbastanza invasiva. Però mi piace il fatto che già ci abbiano fatto scegliere da dove veniamo, qual è la nostra attitudine durante la nostra vita, perché questo credo influenzerà quello che potremo fare nel corso di questa avventura. Fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate e se lo proverete. Il titolo è arrivato all'uscita, quindi al lancio, su Xbox Game Pass. Mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!